Nell'attuale panorama ipercompetitivo e iperconnesso, ottenere il massimo risultato con meno risorse possibili è l'obiettivo principale. L'automazione permette alle grandi imprese di aumentare la produttività ogni giorno. Tuttavia, creare o aggiornare l'infrastruttura per integrare l'automazione industriale richiede l'implementazione di una gamma unica di tecnologie progettate per aumentare l'affidabilità, l'efficienza e la disponibilità. Dalle funzioni relative ai processi alla produzione discreta fino all'infrastruttura critica, Stratus fornisce le soluzioni per modernizzare la tua impresa e ridurre la complessità dei sistemi di controllo industriale. Alla base di questa trasformazione digitale ci sono le soluzioni hardware e software di Stratus che agevolano il consolidamento di sistemi di controllo e applicazioni di supporto alla produzione in un'unica piattaforma unificata. Tali sistemi proattivi analizzano preventivamente i problemi, il loro funzionamento non necessita di specialisti IT e sono dotati di funzionalità di autocorrezione. È questo che permette di garantire la disponibilità continua che le infrastrutture di oggi in costante evoluzione richiedono. Le soluzioni Stratus permettono l'introduzione semplice di nuove applicazioni distribuite su server standard x86 senza necessità di hardware aggiuntivo, oppure come soluzione chiave in mano che include hardware, software e supporto. La configurazione e la gestione sono centralizzate, il che permette di accedere alle informazioni sempre, dovunque e da qualsiasi dispositivo. Le funzioni di reporting automatiche delle nostre piattaforme automolitorate aiutano a individuare le criticità prima che si trasformino in problemi. L'automazione della tua azienda deve essere a prova di futuro per poter sfruttare gli IoT e l'edge computing. Stratus offre soluzioni che permettono di controllare i sistemi con nuove funzionalità e di espanderne enormemente il ciclo di vita previsto. Quando l'automazione industriale diventa promotrice di innovazione, tutto è possibile. Le soluzioni Stratus offrono più efficienza, più affidabilità e più semplicità e proteggono i sistemi dai guasti garantendone la disponibilità continua per tutti i processi critici. Con l'aumento delle applicazioni che si spostano fuori dal data center verso l'area perimetrale della rete, Stratus rimuove la complessità e garantisce la disponibilità.